Sono qui con Enrico Mognaga perché insieme volevamo salutare un amico, un grande amico del poker, Enrico. Sì, venti giorni fa circa è venuto a mancare un giocatore di poker, Gianni Giaroni, un grande amico di tutti noi. Io lo vorrei ricordare però come uomo e come esempio per molti giovani che si avvicinano al poker. Giaroni ha dimostrato come questo gioco deve essere preso con i giusti modi, quindi con serietà e esempio al tavolo per tutti noi. Io credo che veramente i giovani devono capire da questa persona che è venuta a mancare prematuramente quello che è veramente. Io rinnovo le condoglianze alla famiglia perché è il primo evento da quando lui è venuto a mancare che facciamo il campione. Ciao Gianni. Un saluto. Grazie Enrico. Grazie Enrico. Grazie a voi.